Migrazione, ma lo padron, e anche la padrona, se salò manzalità, non trattare, non trattare, non trattare. Due consigli, se volete una longevità in salute e in allegria, andate a Maddalena. E i vent'anni che li conosco, sono tutti sempre uomini. Da volte, da volte. Quindi, grazie per la sorpresa. Menta che si è che spreca il tuo mattino, eh? Sì, ma sì, ma sì. E io sono miarcolosi. Non cambiano, se non cambiano tanto. Ma io la professione, sai, quello scappetto è un di là, che non c'è, ma non c'è, ma non lo scappo. Ma non c'è, ma don Marco Rossi. Comunque, comunque, torno su manetto a cartellino ma sto anche venendo a me d'accordo? ecco, prendi il pittere apposto perché è incecato è tagliato è tagliato